Quando si parla di dipendenze oggi si fa riferimento non solo all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche alla dipendenza da internet, smartphone, da gioco d'azzardo online e da molto altro, perché il mondo reale si intreccia sempre più con le nuove tecnologie e i problemi aumentano. Per contrastare il fenomeno c'è un progetto che ha come obiettivo quello di ridurre il numero di minori a rischio rispetto a tutte le dipendenze. Scommettiamo che non lo sai, viaggio nelle nuove dipendenze, il titolo della progettualità dell'Istituto Comprensivo Santa Caterina Resuttano a valere sul piano di zona 2018-2019 del distretto sociosanitario 8 Caltanissetta. È stato affidato all'associazione Casa Rosetta, esperti da oltre 30 anni nell'ambito della prevenzione e del trattamento delle dipendenze, con strutture accreditate e qualificate anche in campo internazionale, che opera nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione da dipendenze. Il personale coinvolto è altamente qualificato. Questo progetto consentirà agli studenti di confrontarsi su una problematica molto attuale, se si tiene conto delle varie dipendenze che si sono sviluppate negli ultimi tempi, accanto a quelle tradizionali.